Che bello rivedervi insieme, chi ha vinto, chi ha perso, chi ha vinto. No, lui ha vinto, lui è più forte. L'ho fatto diventare calciatore quando stava davanti a me, oggi giocava di là. Mi dite l'emozione di tornare con tutta questa banda di Juventini. Sempre bello, sempre bello ritrovare l'affetto delle persone, ritrovare amici che abbiamo condiviso tante battaglie assieme, è bellissimo. Confermo. La famiglia Niemi, per questa Juve, che cos'è ancora oggi, secondo voi? Cos'era per voi e cosa deve restare per voi? Per me è tutto, è l'aria. È l'aria, l'aria che respiriamo. Loro sono l'essenziale per questi colori. La domanda la sto facendo a tutti. Servirebbe un dilivio, un torricelli a questa squadra? Per me il torricelli tutta la vita. Per torricelli? Anche dilivio tutta la vita, ma il nostro tempo è passato. È giusto che ci sia o no. Mi date un giudizio sulla Juve, su questo campionato, non vogliamo fare paragoni col passato? La Juve deve essere vigile, attenta e intelligente a inserirsi, secondo me, nella corsa a scudetto. Ce la può fare? Ho una parola tabù quest'anno, Moreno. Per me no, non è tabù, è una buonissima squadra. Sulla carta c'è qualcuno di più forte, ma sulla carta non si vince mai niente. Vi lascio perché la partita è lunga. Ciao.